Ville di lusso, appartamenti, oltre 100 automobili tra cui molte d'epoca, un'azienda immobiliare e tre esercizi di onoranze funebri, beni stimati in 150 milioni di euro, compresi titoli e denaro stipato nei conti corrente. E questo è il bilancio stimato del quantitativo sequestrato a una persona ritenuta prestanome di un clan di spicco della Camorra operante nell'Interland a nord-est di Napoli. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno scoperto e operato il sequestro di queste immense proprietà nella zona di Casoria, dando concretezza alle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguendo l'operazione secondo quanto disposto dal Tribunale del Capoluogo Campano. Ennesimo colpo alla criminalità organizzata dopo le recenti operazioni che hanno decapitato i vertici di numerose famiglie criminali in tutta la zona del Golfo e nella zona interna del Napoletano e del Casertano.